Perché si vede così piccolo? Vabbè, ci sto, ci sto. Ah, io sto registrando, però va bene. No, no, non c'è bisogno. Sì, sì, sì. Però spero che non ci sia l'errore, ma non credo. Ma che cos'è sto prosciutto? Però non si è attivata una cosa. Ok. 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 Oh, c'è qualcuno. Oh no. Chi è questa persona, scusate? Grazie del follow Ciroset90, ciao, benvenuto. Grazie del follow AlessioGhost123 Grazie mille Ma io non ho capito È apparso qualcosa sullo schermo Perché dovrebbe essere Dovrebbe apparire qualcosa sullo schermo ma È apparso qualcosa sullo schermo Tipo qualcosa Una musica Nulla Io non capisco Non capisco perché Non appare queste cose Vabbè Vabbè Perchè o no Vabbè Senso Peccato Un po' buio Vabbè 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 un po' di non ho capito perché questo ha scritto un no grazie 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 Secondo me è buggato Secondo me è buggato tutto Ma non si vede male la mia live Ma non si vede male Si vede addirittura bene Il problema Come on Come on E chi la capisce Io non la capisco Io non la capisco Lo va qui Add text Stream label No non sono 40 Non sono 40 I miei follower Allora Add text Stream label Session follower count Session Session followers No Come 40 Eh non ho 40 follower Vabbè Ho 40 Allora facciamo così Io non ne ho 40 comunque Io non ho 40 follower Perché mi dice 40 Perché mi dice 40 Perché mi dice 40 Un bug Un bug Vabbè 10 10 10 40 10 40 Un bug Un bug infatti ne ho 25 mi sa che quella è un'altra cosa fammela cancellare allora total follower count eccolo un po' meno di ora una donna così oh più o meno io questo non lo faccio un po' meno un po' meno un po' meno l'ho aggiornato però il gelato gentilissima grazie grazie mille tu non lo puoi avere tu non lo puoi avere tu caro spettatore che guarderai che guarderai quando la ricarico su youtube quando la ricarico su youtube oppure che la riguarderai a caso tu questo non lo puoi avere solo io solo io lo posso avere tu non lo puoi 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 avere Ciao zigarde31, grazie mille del follow, io non so perché il mio alertbox non parte, vabbè, è andato in vacanza, comunque grazie del follow. Ciao, benvenuto, benvenuto, il mio alertbox è andato in vacanza, non lo so, buon per lui. Sei cristiano? Sì, però non praticante. Io sono suira, che vuol dire suira? Suora, come sei suora. No, io sono un cristiano, ma non praticante, quindi non vado in chiesa, ma non per altro, perché non c'ho voi. La mattina io dormo, ce la faccio altre cose, cioè in realtà non dormo, vabbè. Che cazzo ci fa una suora su Twitch? Ma vaffanculo, ma che cazzo, ma che cazzo, una suora al convento e scrive col computer? Ti faccio vedere io, se sei davvero una suora, il tuo computer è più o meno così. Questo è un computer da suore, questo è un computer da suore, quella è la tastiera da gaming, questa è la tastiera da gaming e quello è il monitor di voi suore. Mi stai offendendo? No, non ti sto offendendo, vuol dire solamente che è un'ottima attrezzatura, vedete? E segnalami le mele, ma segnalami le mele, segnalami l'uva, segnalami l'uva, cosa mi segnali? Cosa va a Twitch? Vede uno che mangia della frutta e cosa vuoi che gli dica? Ma cosa vuoi che gli dica? Aggiungimi su Facebook? Ha bloccato il link Peccato No dai, non farmi fare delle cose che poi mi pento Peccatore Ma che crocifisso Ma crocifiggimi la faccia Crocifiggimi, ma che crocifiggimi Ma che cazzo Vatti a confessare No Io mi vado a confessare quando voglio io, no? Che me lo dici tu Grazie del follow Dancol83, grazie mille Io non so perché il mio alertbox è andato in vacanza È in vacanza Non parte, è proprio zero Nulla, non parte Comunque grazie mille Dancol83 del follow Ora faccio l'unfollow e ti scomunico Ma vaffanculo Grazie mille del follow comunque Dancol Allora Boh, il mio alertbox è morto Ma scomunicami le mele Scomunicami Ma che cazzo mi vuoi scomunicare? Ma che cazzo vuoi scomunicare? A dove mi scomunichi? A dove mi puoi scomunicare? Dai ma mi blocca i link Però sono un incapace Sono un incapace Non posso Devo migliorarmi Devo trovare un modo di riattivare l'alertbox Perché sono un incapace Non so cosa ho fatto di male Boh Vabbè Scomunicami le mele Attenzione Devo trovare un modo Adesso con il mio modernissimo computer Da gaming Di ultima generazione Che ora vi farò vedere Ecco vedete Questo è il mio computer da gaming Dotato di una tastiera Molto comoda Soprattutto molto pulita Vedete Un monitor ultima generazione Marca Pilps Un computer ottimo Non si surriscalda Veramente Un bel computer Nel senso Ci sta Ci sta Ci sta Io ve lo consiglio Da comprare Perché è veramente Mi ha metto un buon computer È un buon computer Sì però Veramente Io sono andato In quel cavolo di dashboard Di streamlabs Per mettere Un alertbox decente Per mettere le cose Ho fatto dei casini Era meglio Quando era tutto normale Tutto stand E ho bloccato i link No perché è speculare Quindi se io la sposto Di qui In realtà È spostata Di là Ma quanto in ritardo Ne l'hai Non capisco Perché è specularis Speculare Se la sposto di qui No Non è speculare Non è speculare Grazie del follow Spy06 Grazie mille Se il mio alertbox Funzionasse Comunque Grazie mille Spy06 Gentilissimo Chissà se almeno La musica è partita No Manco la musica Grazie mille A tutti Del follow Boh Vabbè Non parte La letbox Spero Allora Vado a prendermi Del gelato Vado a prendermi Del gelato Poi il mio Il mio pranzo È completato E Se volete Adesso io vado a prendermi Del gelato Se voi volete Poi Per chi magari È arrivato adesso Recuperarvi La mia diretta Su youtube La ritrovate Ora io vado a prendermi Del gelato Quindi Se volete aspettarmi Aspettatemi Se non volete Aspettarmi Fate quello che volete C'erano troppi pesci C'erano troppi pesci Nel freezer Non riuscivo Non riuscivo a capire Quale fosse un gelato Quale era un pesce Quindi Non capivo Perché c'erano dei pesci Ci sono dei pesci Dentro il freezer Quindi io non capisco Grazie del follow 15 anni T W Y X 610 Grazie del follow Gentilissimo Gentilissimo Ciao Comunque Grazie mille Che tra tutti quei pesci Io non capivo Capito No 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 Quella non la mangio Tutti quei pesci Non capivo Ah ok Comunque 15 anni C'ho 15 anni Ok Quindi siamo giunti Ecco Allora Spero di non trovarci Una spina di pesce Qui dentro Stai cercando Di fare una battuta Con i pesci No No non sto scherzando Dentro il freezer Ci sono tanti Di quei pesci Tantissimi Ma proprio è pieno Pieno zeppo Di pesci E non riuscivo a capire Dov'è il gelato Non sto facendo Nessuna battuta È la realtà È pieno di pesci Teste Forse anche occhi Pieno di uomini Un freezer Ho detto di pesci Di pesci Ho detto di pesci Ho detto di pesci Pesci Non uomini Pesci Pieno di pesci Pieno di pesci Non di uomini Aspetta Non ho capito È pieno di pesci Ma che di uomini Cos'hai nel freezer Ho i pesci Ho i pesci Ho i pesci Nel freezer Ho i pesci Grazie del follow Porco Di Di Zero Grazie del follow Mi dai un po' di gelato E certo Ti do un po' di gelato Cazzo Volevo lanciartelo Comunque Gigi Ci sta Che uomini Uomini Ma che Secondo voi Vi vado in giro La notte Mi metto a uccidere Le persone Le taglio E le metto Dentro il freezer In dei sacchetti Per poi venderle Al mercato nero Ma no Non farei mai Una cosa del genere Tagli il pesce Delle persone Di notte Sei strano L'ho preso al volo Bravo Bravo Bravissimo 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 Prendi il pesce Delle persone Di notte Sei strano No Non è che faccio Questo Ho detto Che non è che Io vado in giro A uccidere Le persone Le taglio Le gambe E le metto Nel freezer Non lo farei mai Cosa fai In queste dirette Io mangio E questa è la mia vita No che cazzo Non farai mai una cosa del genere Che stolti Non sanno niente Non ucciderai mai qualcuno Una volta Non ucciderei mai qualcuno Giusto? Bravo Grazie del follow Gino Gino Pasticcino 06 Grandissimo Grazie mille No lascia stare Ciao Gino Pasticcino 06 Grazie del follow Si capisce dal nome Ma che cazzo Ciao 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 Gino Ciao No davvero Da cosa l'hai capito Che mi chiamo Sebastian C'è scritto ovunque C'è scritto lì Guarda Lì sotto C'è scritto Lì sotto Lì sotto Ma mi dovei chiamare Non ho cambiato nome Per sfuggire dal carcere Ovviamente A volte ti blocchi E dici mille volte Le stesse parole Leggi qua Piscia Ma che sta succedendo qui Come mi blocco Mica mi metto a leggere Quello che hai scritto Sulla stream Di OBS E beh in effetti Giusto Allora il mio nome Di Twitch Tutti quei messaggi Qui Tutti questi messaggi Almeno uno L'avrai letto Almeno uno Di tutti questi Quei messaggi qua Che stanno scorrendo Guarda Guarda quanti messaggi No Non li leggi Guarda Cioè sono qui Sono davanti a te Guarda Sono tutti qua Ma se io ora tipo Non li ho cagati proprio Ma se io tipo ora L'altra parte Fra Oh Cazzo Stanno dall'altra parte Ma che Che cazzo Ma è specularis Noi lo vediamo Dall'altra parte Che figura di merda Ma quindi Ma quindi è tutto Speculare Ma che cazzo No vabbè No Che scoperta No 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 Non l'avrei mai detto Sono speculari Stanno 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 Ma è tutto Speculare No Vabbè Vabbè Specularis Er porco De diaris E che vuol dire Senti tu Harry Potter Dei poveri Ti manca la cicatrice Ma rimediamo subito Ma rimediamo subito Ma rimediamo subito Allora GG Rimediamo subito Ragazzi Allora Ci siamo Ah Ah che male Che male Che male Ai 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 Che dolore Che dolore Ah Ah fa malissimo Fa malissimo Fa malissimo Eh Non sono Uno stupido Banna Terrore Di tweet No Non lo banno Non lo banno Speculare Raga Partiamo Le segnalazioni Ma segnalatemi Le mele Segnalatemi Segnalatemi Cosa volete Segnalarmi Le mele Segnali Che mi segnali A cara Non ce n'è bisogno Non ce n'è bisogno Cosa volete Sono solo Un povero ragazzo Che si sta mangiando Del gelato Mi sto solo Mangiando Del gelato Dopotutto Che cosa sto facendo Di male Sudici Appunto Lisciatemi le mele Sudici Lisciatemi le mele Non te lo dico Non te lo dico Di dove sono Non te lo dico Di dove sono Comunque Devo chiamare Devo chiamare Fabio Devo chiamare Fabio E dirgli Che farò tardi L'ezoterrone Ma come ti permette Pare che non sono Terrone Io E poi non si dicono Queste cose È Cafonaggine Dalle persone tipo Quella della nonna Mi sa che sei del sud Ma che del sud Toscano Non so di tua regione Cazzo Cazzo C'hai quasi azzeccato Però non sono Toscano Però ci sei Sono nato in Toscano Bravo Però no Non parlo con te Ma con tu Ok No Non sono di Umbria Grazie del follow ZX7ZA Grazie del follow Non ti offendere Ma ci mancherebbe Che hai fatto Ubriaco Umbriaco Umbria No no Sicilia No no Parlaci del gelato Beh Beh È un ottimo gelato Di qualità C'è del cioccolato Assieme a della roba bianca Che non so come si chiama Però Molto buono Nel senso Guardate Questo bel gelato Ciao ZX7ZA Benvenuto Della merda No non è della merda È buono Che cazzo Ma no Roba bianca Cioè non so come si chiama Non è crema Non è crema Non è crema Che cazzo No Pensate vale Questi Fammi vedere un secondo Che studi Scienze Matematica Vaniglia Umana Che vaniglia umana Ma che vaniglia umana Non è che tutto C'ha una perversione Dietro Io devo andare a casa Ho una lagga Quindi Eh Devo andare a casa Devo andare a casa Mi tocca chiudere Rip Rip Mi dispiace Ma non lagga niente Ma io devo andare a casa Arriva Fabian Sei un bravo ragazzo Grazie mille Ma non lagga niente Eh ma fidatevi Se io ora esco di casa E vado a casa Lagga merda Lagga merda Cos'è quel 47 Boh Non so Non so cos'è quel 47 Ma non c'entra nulla Cosa porterai nel prossimo stream Io che dormo Che cazzo Sì io che dormo Mi piace No io che Non lo so Boh Io che dormo Gigi Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta io che dormo Ci sta Cos'è quel canale Che ha messo Dovrebbe essere Il counter dei follower Ma non è il counter dei follower Però se io ora vado sull'editor Mi dice 25 Però non è neanche 25 Quindi se ora faccio ok In teoria mi si dovrebbe aggiornare Ho lato destro Cos'è il 47 Sì lo so Lo so Lo so Ora è 27 Vero? Deve venire 27 In teoria L'ho aggiornato Però non cambia Ok 47 Ecco 31 Ora è messo giusto Ora è messo giusto Ora è messo giusto Ora è messo giusto Ora è giusto Ora è 31 Ora è giusto Non è 31 Sì ora è giusto Siamo a 31 follower Che sta succedendo qui? Vabbè Sti cazzi Io ora Gino Pasticcino Non piangere Ci saranno altre dirette Tu basta Stai attivato la notifica? Cazzo Ma siamo in 8 Non mi va di staccare Stai a 27 follower Vabbè GG Eeeh Oh Ripscam 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 GG Io però Cioè non voglio staccare Siamo 8 follower Come faccio però? Devo andare da Fabian No dai Non potete farmi questo No dai Non potete arrivare tutti Ora siamo 9 spettatori No dai Non posso andarmene Non posso andare No dai Perché? Perché a me Non posso quittare ora dalla diretta Chi è sta Fabian? No è un maschio Dobbiamo fare delle cose Dobbiamo fare Una cosa al computer Dobbiamo fare una cosa al computer Una cosa che Che richiede tempo Richiede l'accensione Dobbiamo fare delle cose Delle cose Dobbiamo fare delle cose Ma perché pensate sempre male? Dobbiamo fare delle cose al computer Dobbiamo andare a giocare Vabbè se poi volete La dettaglia Dobbiamo giocare Dobbiamo giocare a Fortnite Io vado a casa E gioco con lui a Fortnite Lui al computer E io alla play Tutto qui Non facciamo cose sconce Non è che sono Non è che ve ne vado in giro E mo sono Sono un gay che uccide le persone Non sono questo tipo di persone Forse E si che buona Comunque Se voi andate Nelle info del mio canale Al computer Stream per process Ma che cazzo Allora vediamo Se riesco a mangiarla in volo Ci proviamo Prova a mangiarla in volo Ci proviamo a mangiarla in volo Aia No non ha funzionato Allora riproviamoci Allora non voglio sprecare il cibo Però tanto questo chicco d'uva È molle Quindi non è buono a mangiare Che lobby hai? Se muori ti do 100 euro Adesso riproviamo 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 adesso Adesso riproviamo Aia No no è mollo È mollo Non va bene Non va bene Allora riproviamo 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 Che Appunto Riproviamo Ultimo tentativo Poi la mangio normale A cazzo No no Vabbè Se muori ti do 100 euro Sono un povero Sono un povero Ma voglio vivere Riproviamo Di nuovo Cazzo Allora Non è possibile Sto sprecando del cibo Minchia Quando io avevo 15 anni Non ero così stonato Ma io non sto cantando Ma io non sto cantando Ma io non sto cantando Ma che cazzo Ma io non sto cantando nulla Ma che cazzo Riproviamo Ma io non sto cantando Ma io non sto cantando Ma io non sto cantando Nemmeno gli aggettivi Se usare Dai riproviamo Ma perché Ma dai Riproviamo Ultimo tentativo Dai Devo avere solo un po' Di mio Che palle Che palle Ma Non ti sto flammando Ok Io non sto più Sto parlando con lo stolto Eh vabbè Non posso lasciare a mia nonna Tutta l'uva per terra E Che cazzo faccio Che ruine con film Voi non avete visto nulla Dai quattro spettatori Sì infatti ora chiudo Ora chiudo Ora chiudo E vado da Fabian Cazzo Basta vado via Ciao a tutti Grazie di aver visto questa diretta Ringraziamo un po' di gente Che è stata qui Ringraziamo un po' di persone Che sono state qui con noi Allora È la prima volta Credo che sento un ragazzo Di nome Fabian E vabbè Grazie mille Porco D0 TvY610 Gino Pasticino Gino Pasticino 06 E ZX7za Vediamo un po' Quante altre persone ci sono Allora Stendiamo un po' Se ci sono altri follower Magari che Più in altro da ringraziare Ringraziamo un po' di persone Ehm Ehm Vabbè Grazie Un nome femminile Non è una femmina Grazie mille a tutti Per aver visto questa diretta Ci vediamo alla prossima diretta Se la volete recuperare Vabbè Ancora un po' Resta su Twitch Se un giorno 14 giorni La volete recuperare Sul mio canale YouTube Ciao a tutti Ciao ciao